Ciao a tutte, benvenute in un mio nuovo video. Oggi rispondo come sempre a un tag, sono stata taggata da Deborah-stopazolo e come al solito sono felice che tu pensi sempre a me e quindi di rispondere a questo tag. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere, lasciarmi qualche like, attivare anche la campanella per ricevere le notifiche e essere avvertito ogni volta che esce un mio nuovo video. Ma iniziamo subito, le domande sono tante, quindi eviterò di essere logorroica e cercherò di rispondere proprio in maniera veloce perché altrimenti non riuscite a vedere fino alla fine questo video. Iniziamo subito. Prima domanda, pensi di essere bella? No, non penso di essere bella ma penso di essere particolare. Seconda domanda, pensi di essere simpatica? Allora attraverso la telecamera non lo so, però chi mi conosce dal vivo e sa come sono fatta sono anche molto autoironica, di conseguenza sì. La terza domanda, pensi di essere intelligente? Allora penso di essere intelligente dove mi va di esserlo e quindi mi documento nelle cose che a me interessano e suscitano appunto a me interesse. Però insomma bisogna sempre imparare. Quarta domanda, pensi di saperci fare con l'altro sesso? Ma pensavo perché adesso sinceramente, cioè adesso già da 27 anni mi rapporto con tutti nella vita lavorativa, però in passato, quando ero ragazzina sì. Allora quinta domanda, segno zodiacale, sagittario. Sesta domanda, sole o pioggia? Sole. Settima domanda, stagione preferita? La stagione preferita è l'estate. Ottava domanda, cioccolato bianco o nero? Se inteso fondente o bianco, bianco. Se fosse al latte o bianco, al latte. Nona domanda, è più facile ridere o piangere? Allora, per me è più facile piangere perché io piango per tutto. Piango se sono arrabbiata, piango perché mi commuovo, sono una persona di cuore. Io purtroppo, cioè purtroppo, sono sensibile e quindi sono una piagnona, però sono solare, quindi non saprei rispondere a questa domanda. Decima domanda, recita la frase di un film? Allora, recitare? Non so recitare, la bypassiamo. Undicesima domanda, film preferito? Il diavolo veste prada? Non ne ho uno preferito, però il diavolo veste prada mi piace parecchio. Dodicesima domanda, libro preferito? Questa domanda la tralascio perché non amo leggere. Purtroppo capisco che chi ama leggere mi vede come un qualcosa di, insomma, che sono strana, però sono sincera e quindi non amando la lettura non ho libri preferiti. Tredicesima domanda, cantante preferito? Come avevo già detto in un altro tag, non ho un cantante preferito ma io amo tanti generi musicali e tanti cantanti stranieri e italiani. Dovendo dirvene uno vi dico Bruce Springsteen perché comunque è sempre stato uno dei miei preferiti. La quattordicesima domanda, ti arrabbi facilmente? Sì. Allora, anche qui faccio una distinzione, nel campo lavorativo no, non so come come io possa fare a modificare il mio carattere che non è così, è tutt'altro. Fuori dal lavoro io non ci penso neanche un secondo a rispondere a tono a chi non mi rispetta. Quindi ho questa doppia personalità non creata da me ma al lavoro molto autocontrollo. Quindicesima domanda, hai qualche vizio? Sì, sì, la colazione potrei metterlo tra i vizi perché non fumo, non bevo, cioè non bevo. Mi può capitare di bere una birra o qualcosa se vado a cena fuori, però vizi in particolare no. Sedicesima domanda, un comportamento che mi dà fastidio. Allora, chi mangia la cingomma in maniera, cioè che praticamente gliel'attaccherei nei capelli la cingomma, perché può capitare a tutti di masticare se si è soli in maniera un po' più disinvolta, ma se sei tra persone o al lavoro sinceramente la cingomma masticata in una maniera poco diciamo elegante, mi fa imbestialire. Diciassettesima domanda, sei superstiziosa? Ma forse lo ero un pelino, non tantissimo, però adesso no. Anzi, vi dico, prima quando vedevo un gatto nero, che per carità anche quella è una diceria, mi fermavo, lo facevo passare, facevo passare un'altra macchina, adesso dico fammi passare che magari è la volta che finiscono tutte queste rotture di scatole, quindi no, non sono superstiziosa. Nella cattiveria delle persone ci credo, però sono sempre fiduciosa e ritengo che accade ciò che deve accadere e quindi non mi sfascio la testa più di tanto, lascio perdere, lascio proprio scivolare. Diciottesima, la tua meta da sogno? Allora, la mia meta da sogno è anche l'Italia, cioè non mi importa anche un viaggio fatto a pochi chilometri, ho voglia proprio di serenità, vorrei che la nostra vita, vorrei che tutti riprendessimo in mano ciò che abbiamo lasciato a marzo del 2020, quindi davvero non ho mette da sogno, proprio passato potevo rispondere in maniera differente, adesso no. Diciannovesima domanda, sei mai stato innamorato? Sì. Ventesima domanda, credi nell'amore? Sì. Ventunesima domanda, animale preferito, cane. Ventiduesima domanda, hai mai avuto il cuore spezzato? Diciamo che sono stata molto fortunata perché mio marito l'ho incontrato, che ero giovane, perché l'ho incontrato che avevo 18 anni, 18-19 anni all'università e da lì il nostro percorso è diventato unico, quindi il cuore spezzato, le storie da ragazzini, per quanto io abbia iniziato tardi. Poi ventitresima domanda, hai mai spezzato il cuore a qualcuno? Sì, ripeto, niente di esilarante, però sì. Ventiquattresima domanda, ti sei mai innamorata del tuo migliore amico? E io dico sì, ed è mio marito, perché noi ci siamo conosciuti all'università e la nostra storia inizialmente era una storia di amicizia, di una grandissima amicizia, ma ce lo sentivamo entrambi che era un qualcosa veramente di completo, con tante sfaccettature e lui è davvero il mio migliore amico, oltre ad essere mio marito, il mio amante, compagno, fratello, tutte le cose che io posso volere all'esterno le ho trovate in lui. Ringrazio veramente di aver intrapreso all'inizio una carriera universitaria che poi ho interrotto, perché niente accade mai per caso e lui è una dimostrazione di questo, ci credo fermamente. 25esima domanda, mare o montagna? Mare. 26esima domanda, fiore preferito? Allora, fiore preferito, vi dico la camelia, perché è stato il fiore che ha rappresentato il mio 25esimo anno di matrimonio, perché è quello che ho scelto per il bouquet. 27esima domanda, hai mai avuto più di 5 relazioni? No. 28esima domanda, colore preferito? Tutte le tonalità del marrone. 29esima domanda, sei felice? Sì. 30esima domanda, ti piace nuotare? Sì. 31esima domanda, qual è il tuo effetto peggiore? Forse il mio difetto peggiore non dimentico, per il quieto vivere vado avanti, però non dimentico. 32esima domanda, il giorno più bello? Io come giorno più bello andando in ordine nella mia vita metto il matrimonio, quindi quello. Poi è chiaro ci sono le nascite dei miei figli, però mio marito non è in una scala inferiore rispetto ai miei figli, ma è sullo stesso piano, quindi andando in ordine mi sento di dire il matrimonio. Poi, il giorno più brutto? Il giorno più brutto quando mio padre è venuto a mancare. Poi, 34esima domanda, profumo o odore preferito? Allora, profumo preferito e mi sento di parlare di profumo, quindi dovendo considerare tutti i profumi che io ho utilizzato nell'arco dei miei 51 anni, quello che mi ricordo veramente che ho usato per tantissimo tempo e mi rappresentava tantissimo, alien. 35esima domanda, hai già festeggiato il tuo compleanno? Ma quest'anno no, perché io li faccio a dicembre, quindi dipende se è intesa da poco o nell'arco dell'anno, se nell'arco dell'anno no. 36esima domanda, mai fatto diete? Sì, sì, io adesso dovrei essere a dieta, però mio marito mi ha comprato queste. Considerate la confezione, considerate quante ne ho mangiate tutte io. Segniamo un velo pietoso. 37esima domanda, mai fatto le ore piccole? Sì. 38esima domanda, campeggiato? No, ma mi piacerebbe un sacco. Io come spirito ho uno spirito, soprattutto adesso, per la situazione che stiamo vivendo, ho proprio voglia di sole, di natura, di libertà, tutto quello che ci è stato privato a causa di questa pandemia. Poi io adoro l'idea di avere un camper. Mi sono sempre piaciute più le case piccole che le case grandi, quindi l'idea di avere poche cose, basta spreco. Lo so che ne parlo io, che ho tantissime borse, accessori e via dicendo, però sarei disposta a rinunciare a tenermi poche cose e a viaggiare, ma non per forza all'estero, viaggiare e vivere la vita e godermi attimo per attimo intensamente. Quindi sì, mi piacerebbe tantissimo campeggiare. 39esima domanda, ti sei mai lasciata condizionare? Assolutamente no. Hanno sempre cercato di condizionarmi più persone in famiglia e non solo, però hanno sempre trovato pane per i loro denti, perché io sono molto gentile, ma accetto consigli da tutti, ma io non amo né condizionare né farmi condizionare. 40esima domanda, com'è la tua colazione? Allora, al bar, un cappuccino e una pasta. Sto cercando di evitare le frittelle, queste esattamente sono castagnole, quindi un cornetto, un croissant con il cappuccino, però ci sono anche le eccezioni. 41esima domanda, hai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? Sì, tutti noi abbiamo fatto cose che col senno di poi abbiamo detto chi ce l'ha fatto fare, però la vita è questa e se non si sbaglia non si impara neppure. 42esima domanda, hai delle manie? Ma io come mania mi sento di dire quella che mi è sempre stata detta da tutti e mi rendo conto di averla è quella dei colori. Realmente per me i colori sono importantissimi e di conseguenza metto quello. 43esima domanda, hai viaggiato all'estero? Sì. 44esima domanda, cosa vorresti dalla vita? Vorrei la salute e vorrei che tutto per tutti, cioè che per tutti ritornasse il sereno. Chiedo questo, non chiedo altro, chiedo questo. 45esima domanda, fratelli o sorelle, un fratello. 46esima domanda, dove vorresti vivere? A me va bene vivere anche qua per quanto la Sardegna col fatto del mare ci limiti parecchio o perlomeno ci vogliono soldi per poterti spostare, però con tutto ciò che è successo mi va bene anche vivere qua. Ripeto, serenità e basta. 47esima domanda, la tua parola preferita? Sono monotona, però come parola preferita io metto sempre se Dio vuole o volere potere. Per me se noi vogliamo e desideriamo qualcosa, a parte la salute, che lì purtroppo non possiamo decidere, se vogliamo magari con più tempo però ci arriviamo, dobbiamo volere, desiderare e decidere ciò che vogliamo per il nostro futuro. Poi per altri può essere più semplice, non per me, però se una persona si intestardisce e vuole arrivare al proprio obiettivo prima o poi ci arriva. Poi, quindi la tua parola preferita? C'è una vita dopo la morte? 48esima domanda, io sono credente, non saprei cosa rispondere, ho un po' ultimamente, mi faccio molte domande. 49esima domanda, la parte del tuo corpo che preferisci? Allora, io come parte del corpo che preferisco ho sempre messo, anche quando ero ragazzina, i capelli, quindi mi sento di dire sempre i capelli, per quanto adesso sono in condizioni, però per me davvero i capelli sono la parte più importante del corpo. 50esima domanda, per cosa ti batteresti fino alla morte? Qui non ho dubbi, per mio marito e i miei figli, stop. Questo video tag termina qua, io Deborah ti ringrazio ancora tantissimo per pensare sempre a me in questi due bellissimi video tag e per quanto riguarda chi taggare quello di mia figlia, che quando ha tempo potrà portare nel suo canale. Carmen Petrini, però non so se lei l'ha già portato, quindi può anche essere, perché io diciamo durante la giornata cerco di guardare i video e i canali di tutte. Ovviamente io non lo faccio per cattiveria, non riesco a guardare sempre e subito i video delle persone che seguo, però video tag da Carmen ne ho visti diversi, perdonami se non mi ricordo che tu abbia fatto questo tag, comunque mi farebbe piacere se tu non l'avessi fatto che rispondessi a questo tag. Scarlett, non so, forse lei lo stesso è stata taggata, quindi no, mi sembra che lei l'abbia fatto, forse dalla stessa persona che ha taggato Deborah, non voglio dire fesserie. Poi Blanche Maison Monique, che ho visto che lei fa dei tag, non so se tu lo abbia già fatto e se abbia piacere a farlo, però ti taggo, non so se l'ha fatto Rita64, comunque lascio libero questo tag e niente, io come al solito vi lascio al mio outfit e dopo ci rivediamo per i saluti. Ed eccomi qua, questo è il mio outfit di oggi, il bauletto di Richmond, che riprende il colore di questi jeans, ho poi sopra il mio teddy, quello di motivi e come scarpe o i mou. Io oggi ho messo queste perché ieri avevo un freddo ai piedi con le All Star, cioè avevo i piedi congelati, sono riuscita a riscaldarmi, forse alle due di notte, non ce la facevo più, ieri proprio avevo il freddo nelle ossa, mani e piedi congelati. Sotto una camicia di H&M che riprende il colore dei miei mou e poi ho questo cardigan di Stradivarius con le maniche sempre a sbuffo come la camicetta. Non mi tolgo il capotto, intanto forse è meglio perché incominciano a vedersi i chili in più con tutte le frittelle che ho mangiato. E niente, vi lascio ai saluti e ai gioielli. E rieccomi qua. Come al solito in velocità vi indico, e ormai li conoscete, il profumo e la tinta che sto utilizzando ultimamente, Revolution ed esattamente Regal e Creed di equivalenza Queer della linea Secret. Per quanto riguarda i gioielli ho la collana, il choker con il mio nome in oro giallo, poi ho il mio nome di Zwicky, quello ho acquistato a 3 euro, questo anellino con la croce, ho sfiorato ogni volta faccio un macello col microfono, perdonatemi, i due cerchietti in oro giallo e per quanto riguarda gli anelli, la combo di questi due anelli, ho cambiato posizione degli anelli, cioè il pic, io normalmente quando metto anelli con la forma di cuore, ho scritte li rivolgo verso di me. In questo senso, con questo anello mi piace rivolgerlo verso gli altri. il mio Apple Watch da 42, poi ho il mio cordino uno dei 50 con l'immancabile Lucchetto, i miei due braccialetti Swarovski della Costellazione, il braciale col mio nome di Rebecca Vecchissimo, il mio solito anello in oro bianco e in quest'altro lato l'Apple Watch da 38 e tutta la miriade di chi in caglieria che mi rappresenta. Tu proprio tu Deborah mi hai scritto se io questi di notte li tengo, sì li tengo e la mattina o bagno o doccia sempre con tutta stacca in caglieria a parte l'orologio, perché questi due Apple Watch non sono, non si possono mettere sott'acqua, quindi l'orologio, gli orologi li metto in carica, i bracciali li tengo, quindi sia quelli anche il cordino, infatti fra un po' mi si consuma, che tutto il resto. Parlo così, sono raffreddata o mi rendo conto che ho sempre il fiatone nei video, però sono raffreddata. Niente, il video termina qua, noi ci vediamo domani con un altro mio video. Ciao a tutte!